Dopo due anni di pandemia gli italiani sono tornati a spostarsi per le vacanze pasquali. Ottima la presenza di turisti nella nostra regione dove in molti hanno scelto il mare, con oltre il 50% degli stabilimenti balneari aperti per la prima prova d'estate. Altri hanno voluto salutare l'inverno con le ultime sciate. Gli albergatori che hanno tenuto aperto circa uno su tre hanno registrato un buon tasso di riempimento. Bene la settimana pasquale per gli agriturismi anche grazie alla presenza di numerosi turisti stranieri e del movimento interregionale. L'Abruzzo ha avuto un buon inizio, una buona Pasqua, le presenze sono state sui numeri del 2019 e si sarebbe anche potuto fare decisamente qualcosa in più in assenza di questa situazione geopolitica. Comunque i lidi sono rimasti aperti, gli alberghi non tutti però sono rimasti aperti, ovviamente non ancora i villaggi, buone presenze nei B&B sia sulla costa e anche nelle zone interne. Obiettivamente non possiamo lamentarci, anche la ristorazione ha assegnato buone presenze, per Pasqua il tutto esaurito è stato assicurato da tutte le parti. Per cui l'inizio è stato positivo, ora ci affidiamo al tempo in senso atmosferico, perché speriamo che faccia bello, perché avremo i ponti del 25 aprile e del 1 maggio in cui portare avanti questo discorso ed ovviamente per la stagione estiva speriamo di più, perché obiettivamente la situazione geopolitica internazionale con il discorso delle guerre andrà a favorire l'Italia e a favorire in particolar modo la costa adriatica con l'Abruzzo da protagonista. Ci aspettiamo nei prossimi mesi un turismo abruzzese in grande spolvero. Per quanto riguarda la provincia di Teramo, un'importante novità sarà la fermata del Frecciarossa qui a Giulianova. Sì, questa è una importantissima novità perché il Frecciarossa ci fa entrare nel circuito dei treni a lunga percorrenza ed è un servizio in più che diamo alla nostra regione e alla nostra provincia. Molto importante, infatti la politica più che della promozione dovrà occuparsi di questo. L'Abruzzo dovrà essere raggiungibile per cui monitorare le ferrovie, grande attenzione alla situazione della A14, mettere a posto le strade, non ci devono essere problemi con le infrastrutture, con l'acqua, con l'elettricità, come è successo tempo addietro e daremo un ottimo servizio ai nostri clienti.